Sarà un weekend di sport, salute e benessere a Napoli con la seconda edizione della manifestazione Race for the Cure contro i tumori del seno, in programma da venerdì a domenica prossima. Dopo il successo dell'anno scorso, con oltre 8.000 partecipanti al Via, la mini-maratona di solidarietà, a cui è possibile iscriversi con un contributo minimo di 8 euro, torna con un programma di iniziative gratuite per promuovere l'importanza della diagnosi precoce ed una raccolta fondi per finanziare iniziative di prevenzione sul territorio e l'acquisto di apparecchiature sanitarie. Sì, per provare ad invertire la rotta, purtroppo la nostra regione e la nostra città registra ancora delle percentuali troppo alte per la mortalità del tumore al seno, quindi è un tentativo eroico di tutte le istituzioni per provare a invertire la rotta, in un momento in cui il Servizio Sanitario Nazionale è abbastanza compresso e la prevenzione è abbastanza sacrificata dal punto di vista dell'elargizione di servizi. Quindi proviamo a sensibilizzare le donne perché se le donne stanno bene tutta la società sta bene. La Kermess, che anche quest'anno avrà come madrina l'attrice Maria Grazia Cucinotta, apre venerdì in piazza Plebiscito con il Villaggio della Salute, dove saranno allestiti i laboratori educativi sulla prevenzione dei tumori al seno e le buone pratiche su alimentazione, attività fisica e stili di vita. L'appuntamento aperto a tutti è per domenica 9 ottobre con la gara competitiva di 5 km, la non competitiva ed una passeggiata di 2 km. Sì, ritorna per la seconda edizione, ci saranno tantissime persone aderite a questa nostra iniziativa, non soltanto le donne perché la corsa è aperta un po' a tutti, agli uomini, donne, bambini e perfino agli animali a quattro zampe. È una corsa che chiaramente è simbolica, la cosa più importante è attraverso le iscrizioni a questa maratona, noi raccogliamo i fondi per la lotta ai tumori al seno. Già l'anno scorso è andata benissimo, la prima edizione abbiamo fatto circa 8.700 iscritti, abbiamo raccolto...